PEGI 18 Tsunami warning, beware of changing tide Fire, fire Tsunami warning, please evacuate to higher ground We've taken the lead Fire, fire, fire 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 Prenota subito l'edizione Day Zero di Call of Duty Advanced Warfare per ottenere accesso anticipato al gioco. Esperienza raddoppiata, due armi personalizzate e tutti i contenuti dell'Advanced Arsenal.